partiamo ci siamo siamo dal vivo sono qui da un po e mi vedete in attesa di partire sono in diretta mi sentite un po chi c'è in chat e risento mi risento quindi dovreste sentire sentirmi anche voi fate scrivermi un po in chat vediamo se sta funzionando tutto correttamente bene bene questa sera facciamo un webinar a tema black friday c'è qualcuno in chat fatevi sentire vedo che ci sono degli spettatori il mio telefono mi è arrivata addirittura la notifica che sto facendo il webinar non vedo nessuno in chat perché non la stava caricando ecco adesso è che si è caricato tutto un botto eccoci qua vi vedo ciao enzo ciao giovanni ciao luigi ciao tiziana benvenuti ciao stefano ciao rinaldo ciao nicolas ciao filiberto buonasera vedo un po di nomi che già sono iscritti al mitico corso zeta workshop 2.0 questo weekend iniziamo con la prima lezione in realtà una prima lezione la trovate già nell'area membri se non ci siete andati andateci se avete acquistato il corso e enzo chiede andrea novità del corso ma enzo dove stai vivendo scusa sotto una una roccia cioè ci sono giorni che mando email e come si dice sul gruppo ci sono i link vai a vedere sul gruppo facebook ci sono i link per per andare sulla pagina di vendita del corso controlla la mail che ci sono i link buonasera leandro poi c'è la gente che si lamenta magari a volte che mail mandano eppure eppure c'è sempre qualcuno che poi dopo mi dice ma io non lo sapevo enzo vai a vedere la mail non hai facebook ho capito fallo fai una fai un un account finto comunque adesso ti metto il link in in chat così anche gli altri possono vedere puoi andare a vederti la pagina di acquisto del corso prezzo eccezionale prezzo da black friday ok ma enzo ti arrivano però le email giusto cioè ti arrivano le email per esempio con i video gratuiti della settimana scorsa cioè devi controllare quello un attimo e devi controllare anche che non ti siano per caso finita nello spam e dovete tutti ricordarvi lo dico ma poi non tutti lo fanno quando vi arriva la mail di accademia z le prime volte la prima volta la prendete la mettete nella cartella principale o la segnate come importante adesso non so io so come funziona su gmail non so come funziona in tutte le altre come si dice piattaforme però gmail tipo la puoi trascinare nella cartella principale no e così dopo ti dovrebbero arrivare sempre lì mi sembra di risparmi anche se le continuo a tirare fuori dice poi dipende un po dal dal provider tu che cos'è che hai tiziana hai email cos'è che hai devo probabilmente cancellare un po di indirizzi di gente che che è lì da tempo e non e non apre così magari evitiamo che le mie email vadano non lette scrivo stasera ma nella mail zero controllo subito va bene comunque no problem prova a vedere attraverso il link gmail c'hai tiziana strano non lo so non so non so come fare ragazzi perché non saprei proprio come come fare ma nel corso si scolpirà tutto il corpo certo se sei abbastanza masochista da voler fare tutto il corpo fai pure tutto il corpo nessuno te lo vieta il problema è che c'è anche qui c'è c'è un altro tema per cui il corso ho comprato mio marito tra poco eh parisco ok e ok nulla di mail che strano boh vabbè comunque insomma st'email per quello devo fare un po' sull'email un po' sul gruppo facebook perché chi magari si perde da una parte si trova dall'altra comunque cercheremo sempre di piano piano lavorare su questa comunicazione e magari dovrò cambiare provider non lo so magari il servizio che sto utilizzando è ha una cattiva reputazione finisce che le mie mail vanno a finire in spam ok ora cosa facciamo questa sera questa sera facciamo una sculturina veloce eh a tema black friday no vi ho mandato forse chi l'ha visto su facebook chi ce l'ha a sto punto ho creato questa immagine molto rapidamente con una intelligenza artificiale in realtà e chissà come mai ha accolto esattamente un po' il mio mood del black friday perché mi ero un attimo raccolto delle altre reference in precedenza e voglio fare un po' questa la mia idea è questa specie di tizio no magari non faremo in tempo a fare anche le mani però l'idea è quella no del tagliare i prezzi quindi non so questa questa cosa di avere delle lame magari eh può stare dentro la cosa sarà vestito tutto di nero sarà nero purtroppo ehm quando l'ho detto all'intelligenza artificiale che lo volevo nero lui ovviamente l'ha interpretato come di colore ma io proprio intendo nero nero ok quindi pelle nera ehm e un sorriso un po' da joker vediamo un po' cosa viene fuori ok l'audio è basso o sono io che ho un problema vabbè essere un pochino basso il diavolo del black friday dice esattamente tiziana diciamo che l'idea è quella si aspettate che alzo un pelino il microfono ditemi se mi sentite meglio che microfono sta entrando vediamo un attimo eh aspetta è quello giusto sa 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 prova prova sentite la mia voce calda e profonda in questo microfono leggermente qua bene bene e mi raccomando prendete il corso perché ci sono pochi pochi posti rimasti l'audio adesso com'è meglio ho alzato un po' il mixer qua del microfono prova prova il diavolo del black friday adesso lo andiamo a fare un attimo se è migliorato l'audio io intanto guardo un attimo qua su facebook ah prima che partiamo c'è qualche domanda oltre a quella che mi avete già fatto sul corso Luigi dice boh io sento forte e chiaro ok io l'ho alzato un pelino il microfono comunque adesso ah no dicevo chi già si è iscritto ho visto che ancora non non c'è corrispondenza tra il numero degli iscritti e quelli che si sono già anche iscritti al gruppo privato bonus su facebook ok ok adesso vediamo se qualcun altro ha fatto richieste di iscrizione no probabilmente perché il pulsante per iscriversi che è nella parte di benvenuto dovete scorrere un attimo è sotto il testo il calendario eccetera ma se andate lì sotto c'è sia il pulsante per accedere alla prima live di questa domenica sia un pulsante che vi porta nel gruppo privato z workshop 2.0 dove non ho ancora pubblicato niente inizierò a pubblicare con l'inizio del corso però se iniziate a iscrivervi lì c'è una parola d'ordine da mettere e potete farlo nel corso c'è un esame finale con certificazione sì l'avevo scritto sulla pagina di vendita ci sarà praticamente l'ultima revisione chi produrrà un risultato diciamo di qualità secondo me sufficiente per per quelli che sono i parametri del corso avrà il non tutti hanno facebook lo so che ormai è un social morente facciamo un sondaggio ecco per esempio quanti di voi invece hanno e usano discord perché potrebbe essere un'idea spostarsi discord anche se discord o discord non so come chiamarlo anche se il mio timore è che meno ancora persone abbiano facebook comunque anche se non avete facebook a parte appunto ripeto che potete farvi velocemente un un account e cancellarlo alla fine del corso se proprio vi toccia tenerlo comunque dopo facebook è una cosa in più è un modo per fare community e stiana dice sì quindi penso che intendi che hai discord io lo uso dice giovanni ok e farò un po' un sondaggio perché anche discord potrebbe essere devo un po' ristrutturare alcune cose di accademia z devo devo prendermi un attimo dice top discord il diverto russo dice io no vabbè insomma bisogna un po' pochi a per il momento comunque facciamo su facebook che abbiamo sempre fatto lì però in futuro potrebbe essere abbastanza necessaria una migrazione su discord e eventualmente anche proverò altri servizi di mailing list per vedere se se hanno una delivery rate migliore perché dovete capire che ci sono tutte delle meccaniche per cui vari provider di servizio di mailing list hanno una sorta di reputazione rispetto ai vari si è un discord puoi fare varie stanze infatti si sarebbe uno strumento più avanzato sicuramente però dico appunto questi questi provider di email marketing alcuni hanno una buona reputazione altri meno poi vabbè insomma è un casino comunque è strano che qualcuno arrivi nello spam fisso e qualcuno invece no fai a finire in blacklist dice Tiziana eh sì però è un gioco un po' così che bisogna stare un po' al gioco perché comunque praticamente più gente spammona si iscrive a un servizio più quel servizio perde reputazione ogni anno c'è uno che va meglio che va peggio però cambiare ogni anno provider mi va mi viene da impazzire più che altro perché ho già tutti i template delle mail impostate eccetera eccetera se no devo cambiare va bene dai abbiamo fatto già quattro chiacchiere quindi se non ci sono altre domande sul corso alla fine di questa diretta in realtà volevo anche attivare la possibilità di acquistare a rate se qualcuno è ancora lì che ci sta pensando e l'aspetto economico gli crea un attimo di ansia eh così potete dilazionare eh ho caricato la carta se la conto bene ottimo eh viene anche dal provider quanto ti fa rimanere con la lista contatti pulita la stetiziana è esperta nella mail comunque zero vabbè casomai fai una cosa insomma mandami parte adesso quando acquisti ma mandami una mail su info chioccio accademia z punto com con la tua mail eh e il costo è 2,97 e il come si dice mandami una una mail con il è possibile poi comprare versione registrata aspettate che sono troppe domande cosa stavo dicendo fino a di mandarmi Enzo comunque una mail su info chioccio accademia z punto com dicendo questa è la mia mail così io vado a vedere e vado a vedere il 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 tuo account se diciamo che come si dice ti puoi vado a vedere che cosa è successo perché non ti arrivano le cose allora per chi non può permettersi il corso in questo momento sarà possibile poi comprare la versione registrata allora la versione registrata o live è fondamentalmente la stessa cosa quindi non è che c'è una differenza anzi essenzialmente questa è un'offerta una tantum che è quella di lancio poi dopo no sì ma Enzo mandami una mail apposta su questo tema qua perché sennò faccio faticare a ricordarmi tutto e quindi a rate questa volta ho deciso di fare una versione in tre rate ok quindi il prezzo è praticamente lo stesso ma è splittato in tre e sono una rata iniziale più due successive a distanza di un mese ok vabbè quindi ormai stiamo parlando già di quello e ve lo dico direttamente mi rendo conto che è molto diverso un'altra domanda in che giorno eventualmente si farebbero lezioni le lezioni sono la domenica mattina ok però non è molto diverso Luigi in realtà perché tu per esempio non puoi seguire la live comunque vedi la registrazione certo se durante la live puoi farmi magari delle domande durante la live però ci sono dei momenti in cui faccio le domande non è che facciamo una botta risposta se no non andiamo a casa più io faccio la lezione magari mi fermo un attimo ci sono le domande le domande di solito sono sempre quelle quindi non è che è molto probabile che se tu hai una domanda la farà qualcuno di quelli che è presente la farà comunque qualcuno di quelli che è presente alla live comunque se poi sei dentro il gruppo facebook dedicato puoi fare la domanda nel gruppo facebook dedicato se non ti ho risposto durante la live e poi comunque ci sono le revisioni le revisioni sono sempre diciamo live la mattina a quell'orario però come si dice anche lì se tu per esempio vuoi ricevere la revisione dei tuoi lavori tu mi mandi i lavori secondo le istruzioni che io ti do quindi ti dirò mandami una tavola con questa e questa immagine e un'altra tavola con questa e quest'altra e io faccio la revisione sia che tu sei lì presente sia che no quindi poi anche quello ce l'hai registrata eventualmente sarei molto interessato ho fatto un corso di 700 euro una settimana prima di iscrivermi a tuo gruppo e ora soffro e chiedi il rimborso di quello a 700 euro e iscriviti al mio no con le rate te la cavi tranquilli direi comunque vedi tu ok bene allora facciamo così visto che abbiamo parlato delle rate visto che c'è Giovanni che le sta aspettando datemi un secondo che lo faccio direttamente tanto è un click che devo fare così Giovanni può andare subito ad acquistare vero Giovanni che sei lì con la carta pronta così facciamo l'acquisto in diretta praticamente io adesso vado qua nella mia piattaforma vado su sezioni trovo la sezione nascosta con il pagamento a rate e la rendo visibile poi salvo le modifiche ok e nel giro di 4 secondi 5 secondi se voi aggiornate la pagina al link che vi ho mandato prima in fondo al mega papiro e comunque potete schippare schiacciando sul pulsante che c'è all'inizio oppure acquista subito il corso o su uno dei tanti altri pulsanti simili che ci sono durante la pagina arrivate in fondo in fondo in fondo ok ve lo faccio vedere anche qua sullo schermo attacchate andate in fondo in fondo vedi clicchi qua attacca e dovrebbe esservi comparsa questa opzione ok inizia subito con solo i 99 euro e paga il resto in tre rate mensili da 99 euro ciascuna quindi tu clicchi qua facciamo una obligazione in incognito va bene e potete scegliere se pagare con paypal o pagare con carta punto va bene quindi potete anche scegliere una prepagata piuttosto che ovviamente fatevi poi inseguire come i bambini che non mi ricaricate la carta quindi poi vi arriva la notifica di paypal che il pagamento non è andato a buon fine quindi poi dopo dovete ricaricarla poi dopo io devo rifar partire il pagamento diventa un casino ok 3 da 99 si vede esatto è giusto Giovanni Martino fatto eccolo lì perfetto grazie sono stasera entro domani mi iscrivo grande Luigi attenzione perché c'è anche un altro problema in realtà ecco qua già due ne vedo che si sono iscritti chi è che sono uno è Giovanni mitico Giovanni e l'altro è ma è Giovanni ah no ok sono due messaggi della stessa cosa prima dice che è partito il pagamento e il secondo che è arrivato ok quindi Giovanni appena acquistato grande Giovanni buonasera Leonardo intanto mi mandi la mail così sostituiamo quella che usi di solito con quella che hai pagato Luigi domani si iscrive grandissimo c'è un altro problema dovete iscrivervi assolutamente perché probabilmente dovrò chiudere per questioni fiscali le iscrizioni in anticipo purtroppo perché se no sforo come si dice il forfettario e non mi conviene se no per poche centinaia di euro non mi conviene quindi devo assolutamente sto tenendo calibrato quanti posti disponibili ci sono ancora ce ne saranno meno di dieci di solito ogni tanto ne apro qualcuno in più se vedo che alla fine comunque non voglio lasciare fuori tre o quattro persone perché magari il venerdì vogliono acquistare però con questa storia del diciamo del limite del forfettario non devo non posso proprio sforare quindi se intendete prenderlo meglio prenderlo per primi perché non so magari mi invento qualcosa ma non è che posso inventarmi chissà che cosa a certo punto non posso più incassare ok allora dai facciamo una una veloce sculpt questa sera tema black friday il demone del black friday come diceva giustamente tiziana mettiamo il basic material prendiamo la penna e l'hashtag black siete pronti per questa demo cercherò di fare una roba abbastanza rapida tra l'altro giusto per facilitarmi la vita sono affettato non è così brutto ma l'altro giorno era abbastanza sanguinata la questione sta cicatrizzando ma mi sono affettato via la punta del dito col pelapatate avevo una carota a tutta velocità è stato nuovo quindi di un tipo diverso da quello che avevo prima quindi ho fatto un movimento insulso la webcam e mi sono affettato via il pezzo di dito ok dai allora vediamo un po' qui come funziona la storia solito discorso anatomia del volto uno dei temi più importanti da imparare nella scultura 3d quindi iniziamo facendo con il move una deformazione ok tra l'altro questo più o meno poi sono le cose che andremo anche ad approfondire nel corso andremo a vedere come usare immagini di reference sui piani insomma per facilitarci ulteriormente la creazione della mesh anatomica io diciamo che schippo quella parte perché l'ho fatta talmente tante volte che non ho più bisogno al momento vado più a guardare le reference e a copiare tra virgolette quello che vedo più che cercare di ricalcare proprio una reference per rispondere al post che ho inviato prima in questo momento mi viene un po' difficile perché non so esattamente a che post ti riferisci però se vuoi scrivermelo qua ti posso rispondere a meno che non sia una cosa imbarazzante diciamo tra virgolette e quindi forma del cranio forma del collo abbiamo un bel inflate iniziamo a gonfiare questa parte qui una parte diciamo così di riscaldamento che faccio perché bisogna vedere come funziona la questione fiscale cioè se forse dovesse 5.000 dovesse avere ora il limite è pagare più tasse fondamentalmente sì cioè il regime fiscale forfettario ti dà un limite di fatturazione annuale oltre il quale tu puoi fatturare ma vai ad andare in un altro regime fiscale quindi paghi più tasse praticamente allora o raddoppi il fatturato allora dice ok mi conviene in proporzione pagare diciamo pago più tasse ma in proporzione guadagno anche di più ma se si tratta di sforare per poco non ha senso comunque adesso lo alzeranno un po' questo limite dicono nuovo governo promette questa cosa ma si tratta comunque da 2023 in poi se lo fanno quando lo fanno ok quindi base anatomica molto rapida testa gusto collo qua abbiamo un po' le reference pennello sacchete 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 poi i muscoli del collo interno credo mastoideo solito mitico vedete vedete c'è anche queste cose tirate qua si chiama platisma è un serie di muscoli di tendini che vengono giù da almento praticamente rino dice ciao sono prospero volevo sapere se il corso è il il 2022 no direi di no in realtà le versioni zbrush sono da un po' di anni che introducono robe ben poco interessanti direi cioè sono in realtà delle più delle automazioni di cose che esistevano già e che la gente non sapeva che esistevano loro le hanno rinominate reimpacchettate ma in realtà useremo funzioni abbastanza di base però la cosa la cosa importante sempre è lo studio delle forme ma soprattutto allora quello che dovete sapere che io cerco sempre di trasmettere come concetto è che quando si parla di moderazione 3d e in particolare di scultura 3d non è tanto le feature del programma che fanno certo il programma ottimizzato per la scultura 3d quindi comunque è abbastanza utile cioè scusate è abbastanza efficace per quel tipo di cosa no piuttosto che adesso per esempio c'è stato l'ultima volta ho fatto poi non c'eravate perché è stata una cosa forse un po' estemporanea non è stata una cosa un po' estemporanea non ho avuto tempo di avvisarvi ma mi hanno invitato molto gentilmente quelli di Blender Italia a fare un un webinar sulla loro community non so se voi qualcuno di voi c'era nel qualcuno di voi c'era prima di scrivere nel gruppo privato ma in direzione alla pagina del manuale gratuito da dove stai cercando di scriverti al gruppo privato dall'area membri o al gruppo privato cioè che cosa intendi per il gruppo privato quello che si accede attraverso l'area membri e Torvidani dice no assolutamente no almeno da come era penso di mattina c'era che cosa intendi per un attimo Giovanni tu per esempio che sei un po' esperto sei già dentro ah no perché devo eh intanto questo è un webinar un po' così è prendito finte intanto devo fare l'accesso all'area membri al corso per quelli che pagano a rate peggio fatto strict access possiamo mettere la workshop rate facissimo poi per il per il gruppo privato guardate la quantità di corsi perché questa è la mia area membri diciamo la mia mail personale avete vista non rompetemi le balle sulla mail personale allora vedete che ho anche dato una po' una svecchiata alla grafica per chi lo è benvenuto ai comunicazioni qua bene c'è il benvenuto e poi qua c'è partecipare a live che sarà quella di domenica e qua c'è iscriviti al gruppo facebook bene adesso voi vedete la parola d'ordine non avrei fatto vedere la cambierò ma se vi siete iscritti al gruppo se vi siete iscritti al corso ok e cliccate su questo pulsante in teoria hai ragione ti manda qua e sono io che ho sbagliato il link bravo vedi avrei bisogno di qualcuno che testa continuamente le cose intanto si rompono quindi adesso devo prendere link del gruppo e la gente però qualcuno si è iscritto non so che cosa è andato sotto questo punto deve essere e adesso lo cambio poi vedete quanto altro lavoro c'è oltre alla scultura vabbè qua soprattutto quando devi switchare da una mente diciamo così da artista e una mente da programmatore beneditor abbiamo iscriviti al gruppo facebook facciamo l'azione perché l'url qua me la dà giusto provo a rincollarlo e è peggio ancora perché va bene niente ve lo manderò via mail fine settimana così se questo pulsante qua continua a fare le bizze andiamo a ritestarlo era giusto tagliato fate pazienza un attimo adesso sto giro mi manda i misteri e comunque da qui link era giusto ma non so che c'era probabilmente qualcosa che interferiva nuove richieste di membri eccolo qua mattiavecchiato next gen benissimo approva e mattiavecchiato è dentro al gruppo ok quindi se vi siete scritti al corso iniziate ad entrare nel gruppo però io adesso cambio la la parola d'ordine ok e non ve la faccio vedere perché sennò devo controllare che chi entra è anche nella lista di quelli che hanno acquistato quindi che parola d'ordine mettiamo mettiamo una roba del genere ok perfetto chiudiamo andate a vedere nell'area membri ci sarà il bottone che adesso sappiamo che funziona e la nuova parola d'ordine ancora lì sulle informazioni per le istituzioni se vi ho bloccato una live no no ma giusto cioè meno male perché per questo problema ho bypassato e mi sono iscritto al gruppo da pervi ok non abbiate paura di scrivermi se ci sono dei problemi tecnici una cosa perché può essere quindi prima me li segnalate prima di rispondere sì Blender Italia sì quindi mi avevi visto Andrea talvolta ti capita anche di scolpire oggetti non organici sui scettabrash magari per svincolarti della topologia che può avere un po' dei limiti della topologia che può avere una mesh sì su ZBrush le cose hard surface le faccio soprattutto con le booleane per esempio ok con le 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 e comunque anche con i pennelli cioè si può ottenere un effetto hard surface anche con i pennelli di ZBrush ok allora andiamo un attimo veloci qui adesso opa mettiamo la simmetria mettiamogli questo ghigno da joker mi piace un sacco questo qua sì sì senti qua però iniziamo a creare questo effetto di luce di ombre che è la cosa più importante ok va mettiamogli un po' di di capelli accennati mettiamogli le corna direttamente con lo scultrispro come ci consiglia lui un po' le corna della rietta come sono fatte ok andiamo iniziamo a tirarle un po' così e c'è un po' l'inflate lavorando col medio ogni tanto sbaglio ok ancora un po' su proviamo inviardiamo le ho fatte molto sottili ma adesso le sistemiamo prendiamo il mood topological dobbiamo preoccuparci di intaccare le parti possiamo anche dargli una forma più particolare perché no attacca attaccate e vista di fianco qualità le più avanti prendiamo sempre topological così non andiamo a intaccare la testa ok adesso che abbiamo più o meno la silhouette possiamo andare a lavorare sugli spessori con l'inflate un po' di smooth un po' di plate un po' di smooth e diciamo che abbiamo più o meno il nostro risultato temeremo ulteriormente però anche qui una cosa interessante da capire nella meccanica di scultura è di non perdersi via troppo su un singolo aspetto ma cercare di come dire portare avanti la scultura nel suo insieme poi dopo andare a dettagliare se avete letto un po' i temi del corso infatti lo affronteremo lavorando in sequenza forme primarie secondarie e terziari in questo modo andiamo ad aggiungere sempre più dettaglio ma senza quella fretta che poi crea molti problemi alla maggior parte delle persone per cui il modello risulta tutto pieno di bozzi ok vedete che sto lavorando sto cercando di lavorare prendo un attimo prendo un attimo come il pennino per farvi notare che sto comunque lavorando su le luci e le ombre ok quindi quello che mi interessa adesso sono questi no questi design questi disegni qua questo è quello che sto cercando di fare e per quello non c'è bisogno di molta topologia anzi quindi prendiamo il coso mettiamogli la q curve un attimo così così torniamo a vedere le reference principali in realtà teniamogli le cose giù voglio un po' gli occhi stanno un po' stocchiusi come fa lui qui ci sarà la piega naso labiale molto segnata qui questo ok qui le labbra qui i denti una cosa questo labbra segno del mento mento ok andiamo in dentro e vedete che anche qui il mio obiettivo non è andare a disegnare il singolo dettaglio ma capire la forma e saperla in qualche modo riprodurre ok adesso sto usando lo Sculptris Pro volare se mi interessa spero fare un po' più veloce ma sconsiglio i principianti di usare lo Sculptris Pro meglio partire piano piano con una bella Dynamesh anche qua però diciamo che è un workflow un po' velocizzato per fare la dimostrazione adesso per intrattenere ma poi a livello didattico sono alcune differenze sull'approccio ok facciamo così togliamoci dalle scatole un attimo le corna nel senso che se spostiamo un altro tool ok e andiamo un attimo in modalità solo ok quindi some standard se ci sono domande in chat parlate pure tra l'altro tra le cose che mi ha generato mid journey perché ho usato anche un po' l'intelligenza artificiale c'è questa strana dentatura direi molto strana potrebbe diventare un tema anche quello vorrei ritrovarmi cercare di fare una likeness dell'attore qua che mi piace moltissimo ma non mi ricordo il nome ricordo il nome di questo attore ma che diceva Crozza Luigi per favore mi cerchi su wikipedia attore che ha fatto x-men magnito da giovane metti con la barra degli strumenti questa 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 è una roba extra diciamo fast band questa è una cosa extra è un programmino che si chiama epic pen che serve a disegnare sul monitor se ci intendi qualcos'altro la mia sinistra non ho presente sì quello si chiama epic pen è un softwareino gratuito che puoi scaricare che ti permette di disegnare sullo schermo ok quindi qui abbiamo i denti tagli così che stiamo lavorando gli scultri spro togliamo la dynamesh lavoriamo tutti gli scultri spro proviamo non è workflow che uso abitualmente ma dovremmo provarvi sento abbastanza confident ok leggeriamo un po' questo sorriso questo sorriso un po' più black friday un po' più joker ok utilizziamo un po' la cosa ok vediamo un po' il naso ok demone qui ha la discriminante tra un naso da demone e un naso non da demone facciamolo black perché è black friday ok scegliamo un materiale un po' lucido facciamo troppo black non lo vediamo però iniziare così possiamo magari mettergli delle occhi facciamolo black friday sparenza si facciamo 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 e mettiamo mettiamo un attimo e mettiamo un attimo il basic material 1 che è un po' scuro e andiamo qua in materiale modifiers li aumentiamo poi torniamo sul volto e dobbiamo sistemare a questo punto le palpebre perché vedete che con la sfera dell'occhio in posizione si vede che le palpebre sono un po' ballate facciamo così si ok non male per fargli più capelli vediamo se abbiamo una reference dei capelli al momento data brush ha il miglior servizio di scultura per un utente che vuole modellare beh si direi di si questa di natura qua secondo me prendiamo ad esempio questa una stamp standard e ce la diciamo tornare torna niente ma tiziana non ho capito però adesso mi viene il flash ma sarai tua partecipare al corso sarà tuo marito non ho capito adesso entro in modalità speed ok non chiedetemi cosa sto facendo lo faccio poi spieghe ne facciamo il tuo gesto per il tuo gesto io ah ok fantastico non è mai capitata una coppia che entrambi partecipano al webinar ok qua anche io devo trovarmi una moglie che segua in queste cose ok così così pancia sigomo scavatura qua sotto e ok benissimo possiamo lavorare un attimo trecchi lei che mi ha fatto conoscere il tuo allora doppio merito tiziana fatto accademia andiamo sulle corn un po' di dettaglio molto brutale se stessi schiacciando in 3d ecco la cosa bella che ancora nessuno fa così bene è proprio questa questa sensazione di poter schizzare in 3d con il blocco degli appunti e tolgo ok abbastanza bene possiamo mettere un pelino a posto gli occhi sono una parte più bastarda ok e adesso gli facciamo un po' i vestiti facciamo un duplicato il corpo lo riempiamo con un colore ancora più scuro e lo inflatiamo leggermente lo isoliamo lo tagliamo save tagliamo tagliamo object h guardiamo le nostre reference e cerchiamo di riprodurre quello che vediamo lì abbiamo colletto della camicia ok modo modo della cravatta in realtà aumentiamo cioè mettiamo un pochino più uniforme la superficie perché da quella anatomia che c'era sotto non ci serve in realtà la cravatta giacca molto schiacciato solo per avere un attimo così 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 qua la cravatta ok palle ancora un attimo vedete che inizia a prendere forma il personaggio diciamo ok adesso che abbiamo un po' questi volumi dovremmo col dam standard essere in grado di un po' un buco qua da stappare allora nam standard stacca te stacca te stacca te stacca te stacca te un po' di piegata qua un po' di smooth un po' di move troppo cavare quest part questa due la parte che va dietro sì ok voglio una dynamesh alt andiamo l'age polish vado appiattire togliamo pure cosa lo sistemiamo e anche qua dice ma non fai pezzi separati eccetera eccetera sì pezzi separati poi li faccio però prima per me la cosa più importante è rapidamente definire quale sono le forme tecnicismi di come raffinare la cosa li facciamo anzi farò anche una cosa unorthodox cioè vedete che ho salito con la dynamesh ma sto lasciando molti segnacci sulla mesh andremo a diminuire provvisoriamente la risoluzione in modo da togliere un po' di segnacci trapezio troppo grosso e vedete come è tutta blobbosa la mesh ecco questo è quello che succede quando che a me succede ovviamente quando si hanno troppi poligoni per quello che si sta facendo in quel momento quindi e che clippo un attimo vedete c'è troppa troppi poligoni penso dice che ha acquistato benissimo mail eccolo qua eccolo qua enzo bonzi ha creato un nuovo profilo di pagamento perfetto grande enzo siamo finalmente sei pronto anche tu per la tua dose allora proviamoci pure sta parte qui che non ci interessa del quick save prima di fare questa operazione di taglio perché posso dare dei risultati inattesi desiderati quando lo faccio come l'ho fatto adesso quindi dicevo abbassiamo 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 sta dynamic troppo alto troppo alto è un po' troppo alto ecco così ci va bene adesso ribattiamo un po' tutto qua vedete che si è tutto un po' piatto tecnico però vedete che se appiattisco mi rimane un po' la traccia di quello che ho fatto sotto non tutto è perduto poi potrei usare le maschere potrei usare un sacco di robe ma fare un lavoro più sporco ma che funziona possibile quindi possiamo riattivarci un attimo il scultis pro e col dam standard ancora una volta taglio una battuta e ogni volta diciamo che faccio uno di questi passaggi uno dice ma come l'hai già fatto prima si ma non l'ho già fatto prima cioè prima stavo ancora elaborando forme proporzioni della giacca della camicia del design eccetera adesso per esempio il colletto della della giacca l'ho cambiato no sono tutti aspetti che vengono elaborati e migliorati man mano dopodiché per il momento ci accontentiamo cerchiamo di togliere un po' di glob con il clay build per lo smooth e sempre il nostro each polish se ci va polish ok un'ultima volta and ok vedete che anche se è un pezzo unico comunque mi catcha le luci in maniera corretta quindi poi rispetto alla fase successiva sarebbe quella di pezzettare le varie parti della me questi occhi mi sembrano un po' lontani facciamo un po' lontani grande se era troppo coperta facciamo un po' una combinazione un po' più evil maligna cornus ok 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 devono un po' di grado qua friola friola e niente bisogna avere un po' l'aspetto di sale andiamo qua narice andiamo magari a allungare i denti in maniera un po' innaturale un po' anche come ci ha suggerito la intelligenza artificiale ok prendiamo standard andiamo a lavorare un attimo qui sulla gengiva ok i denti corti potrebbero essere quasi inter dare anima andiamo in scutti però si fare un po' questi anni ok e cercheremo di dare per finire allora adesso facciamo rapidamente le orecchie vedete lo scultis pro è buono ma è un po' ha una risposta un po' del cavo allora facciamo lo standard questo punto e facciamolo ecco la att torn eccolo qua dovrebbe voglio fargli anche gli orecchini farei le rette i cert primitive prendiamo le sfere ok le corna le facce rosse andiamo a colorare una faccia paint prendiamo questo colore di base lo scuriamo facciamo delle belle occhiaie e i denti i neri la bocca labbra un po' nere un po' un po' un po' un po' un po' i capelli ci occupiamo solo della parte frontale del dietro restiamo un po' i capelli più avanti ok se ti rompe solpisce non ti preoccupare poi lo mettiamo a posto domani mattina metto a posto tutto calma l'unica diciamo problematica che ci può essere se tu hai usato una mail di paypal sulla mail di paypal che hai usato per il pagamento hai già l'accesso ok capita a volte però che ci sia qualcuno che come dice giovanni che usa abitualmente un'altra mail per stare in accademia piuttosto che e quindi gli devo fare la sostituzione mail che ha pagato con pizza c abbiamo il ore c ore qua usiamo qua un po' qua tacche mettiamolo un po' in maniera simmetrica questo clay buildup perché quelle pieghe lì erano molto ok molto simmetriche allora rompiamo un po' la simmetria ok un po' diversa la destra e la sinistra che aiuta a rendere più ok ok bene direi che più o meno ci siamo qui poi ci si deve mettere ovviamente a raffinare un po' il tutto dai la parte di finitura molto più rilassante diciamo rispetto a quella di design cioè divertente per me è quella di design ma è anche da un certo punto di vista più stressante perché devi comunque immaginare che stai costruendo qualcosa che se non funziona non funziona tutto il resto una volta che le forme giuste diciamo sono state messe giù sbagliare tagli tagli diciamo che sono un'opinione design o meglio forme primarie forme primarie sono meno 1p ecco miglior amico sto lavorando ancora un po' in scultismo però non so se voi lo notate dallo stream ma è meno risponde in maniera meno è arrivato a questo punto forse vale la pena alzare un po' la dynamic fare una dynamic ok quindi compito per questi giorni prima di tutto affrettarsi ad acquistare zeta workshop 2.0 ho già detto workflow workflow rivoluzionario partiremo un casino vedo l'ora di cioè proprio a questo giro ragazzi non vedo l'ora perché sono riuscito a creare non per suonare il mio stesso pizzo semplice dire ma sono riuscito a creare una struttura modulare così diciamo rigorosa da un punto di vista di didattico così completa così rigorosa così ben ordinata non so sono proprio curioso di vedere no se ho ragione penso di sì perché è una sensazione che ho in base anche ormai sono anni che ho proprio la sensazione in questo giro di aver trovato un workflow che chiunque seguendolo religioso come dire scrupolo può creare qualcosa di veramente uno che non ha mai in mano il zbrush chiaro che se uno se uno è già un po' più esperto avrà modo lo dico anche in video presentazione si potrà concentrare un po' di più sull'aspetto artistico sulle rifiniture eccetera eccetera uno che inizia magari deve un attimo sbattersi come tutti hanno fatto per far tornare i conti con le mesh e l'interfaccia ma come la web data workshop 2.0 e con l'1.0 già avevo visto i risultati incredibili di persone che veramente non avevano mai scolpito da loro pensate che quel corso era durato solo otto ore praticamente perché era stato un corso di un weekend tutto giro ci abbiamo più del triplo delle ore a disposizione periodo natalizio che casca pennello perché avrete due settimane di stacco praticamente in cui avrete già avuto tutte le informazioni più importanti del corso per quanto riguarda la parte di scultura che è la parte più impegnativa ripeto da un punto di vista diciamo dell'energia cerebrale da un punto di vista tecnico le cose anche di rendering texturing così hanno delle complessità ma in realtà sono complessità di dire ah ok devo schiacciare quel pulsante poi quell'altro i nodi funzionano così ma sono cose come dire che se metti in pausa il video e le ricopi uguale un attimo la parte di scultura ovviamente prevede uno studio più a lungo termine ok quindi da scolpire non può pensare di avere il mio livello di la maestria nel muovermi le forme eccetera però già per osmosi qualcosa trasuderà e lo acquisirete ok e e poi per il resto applicando ripeto workflow era umile e religiosa termine più adatto con fede e devozione comunque seguendo bene quello che dico partendo per la tangente perché è lì che vedo che poi la gente non ha i risultati quando la gente parte per la tangente perché perché pensa come non si può non si può sapere ciò che non si sa ok non sa delle cose ma non sa di non saperle e quindi si si inventa che per esempio deve fare questo deve fare quest'altro è meglio fare così è meglio fare cosa io cerco sempre un po' di gestire questi diciamo pulsi che sono naturali ma in maggior parte i casi dannosi e però non è che posso obbligare la gente a fare esattamente quello che dico io però consigliare seguire quello che dico solito chi chi lo fa ha i risultati migliori come diceva Ioda imparare ciò che hai imparato tu hai tu la domanda anche se non se dice la la relazione è poco quale anche lì dipende un po' diciamo che la cosa è che ogni software è specializzato in qualcosa se ti dovessi dire un software generalista che a me piace blender nel senso che comunque è gratuito fa tante cose che fa bene quelle che fa chiaramente però se che ne so se io non ho mai usato Udini però so che per certe cose magari è meglio Udini per certi effetti che ne so procedurali di liquidi cazzi e mazzi magari è meglio un altro però diciamo che un software è tutto tondo finiamo da parte la scultura per cui secondo me ZBrush non ora non non può avere rivali ma proprio costruito con una tecnologia diversa così un software generalista che fa bene le cose secondo me però ancora non sono pronto a convertirmi alla setta di blender perché tanto non so se lo sarò mai pronto ma ancora ZBrush fa le cose troppo bene per come serve a farle a me aspetto che la parte dietro non la faccio ok cos'è che potremmo dire di questo demone il demone del black friday cos'altro potremmo fargli niente direi che siamo arrivati a un buon punto della scultura concept c'è l'espressione c'è l'idea c'è potremmo rendergli gli occhi un po' più lucidi con il toy plastic plastic material fill object basic material prendiamo gli occhi diciamo un pochino di corgenza occhi grazie diciamo che la cosa che vorrei che migliorasse con ZBrush è a volte la comunicazione cioè vorrei dirgli ZBrush dammi gli occhi non rompere le scatole dammi gli occhi che ci sono invece che non prendermi il comando prendermelo male rompere le palle prendimi il comando subito e senza esitazioni per esempio ho perso l'anduistory perché il palle è un po' pesante e allora il bastardone prego l'occhio un po' svolgente troppo svolgente l'occhio non è venuto proprio benissimo fa niente lo specchiamo due volte ok e anche le corna mettiamo gli un materiale tanto cambiamo male male le corna guarda facciamo con lo standard super intenso un po' di un po' ok allora siete pronti per partire con z-workshop 2.0 siete entusiasti per sapere in chat dimostrate il vostro entusiasmo e direi che stasera abbiamo fatto anche ogni spieto fatele queste cose qui anche voi cioè va bene che io le faccio in webinar faccio perché dovete ah ok fai gli esercizi si le voci così un paio d'ore fa la scuola la sfera fa ogni volta il ripasso della natura di base il colto eccetera fatevi fu non andate a cercare i tutorial sulle UDIM che non andate a fare le cose servono adesso ecco guarda che belle corna già belle texturizzate esattissimo diciamo cittura di bianco nei cappelli potrebbe stare ancora corn cittura di bianco nei cappelli golden standard lrgp sì qualche filo cappello ok demone del black friday grande dice ok raga allora vi saluto aspetta un attimo che riaccendo webcam per cui per chi si è iscritto al corso ci vediamo nel corso per chi non ancora iscritto scrivetevi ci sono ancora pochi posti la possibilità di pagare a rate l'ho appena introdotta avete visto anche il demone del black friday che se non comprate il corso vi viene a trovare e quindi grazie a parte vi auguro buona serata grazie di essere stati con me anche questa sera nel webinar e ci vediamo prestissimo nel gruppo ma soprattutto ci vediamo con gli iscritti al corso domenica che iniziamo a fare le nostre lezioni iniziate a guardarvi il mini corso introduttivo su zbrush soprattutto se siete agli inizi così quello vi dà un bel input speciale ok non lavoro come sempre dice luigi grazie adesso salviamolo questo lavoro e ci sentiamo prestissimo vi mando un grande braccio ok ciao ragazzi ragazzi e ragazze ragazze che sono loro che fanno scoprire ai ragazzi che accademia abbiamo scoperto ciao buona serata buona cena a presto ciao ciao a presto a presto Grazie a tutti.